mister intanto il palazzolo si prende il risultato importantissimo dopo un periodo diciamo non brillante dal punto di vista dei risultati invece a te l'analisi della partita che palazzolo hai visto? hai detto bene ci prendiamo sia il risultato e ci prendiamo anche nell'alto perché oggi abbiamo fatto una bella partita abbiamo avuto sempre la palla noi abbiamo creato soltanto che spesso arrivavano gli ultimi 16 metri e c'era sempre il passaggio filtrante sbagliato oppure il tiro che è andato fuori il tiro di Bonfiglia tu per tu col portiere che è terminato al lato io credo che abbiamo fatto oggi una una bella partita soprattutto anche sul piano del gioco il risultato era importante anche per una questione mentale visto che venivamo da due passi falsi che poi sono due passi falsi diversi quella con Rosolino e quella di domenica scorsa col Paternò era importante ritornare alla vittoria l'abbiamo fatto quindi come sapete bene la vittoria da morale quindi ora ci faremo queste altre otto partite nella speranza di ripetere il percorso che abbiamo fatto da quelle che siamo arrivati